Terminerà nelle prossime ore il primo stralcio di interventi messi in campo per il ripascimento delle scogliere. L'arenile interessato dai lavori per limitare i danni dall'erosione è quello che costeggia gli stabilimenti balneari situati lungo Viale Trieste, con il completamento dell'opera previsto appena terminate le festività natalizie. L'attenzione però rimane alta sul versante sottomonte. Qualche giorno fa è stato bocciato in Commissione Bilancio un emendamento a firma del consigliere regionale Andrea Biancani, il quale chiedeva un contributo urgente di 150.000 euro per interventi in difesa della costa del Comune di Pesaro. I danni delle ultime mareggiate hanno interessato non soltanto gli stabilimenti della zona ma anche la pista ciclabile. Disagi per i quali urge trovare una soluzione, come riferisce anche l'assessore all'operatività del Comune di Pesaro Enzo Belloni. Dopo tanto tempo di attesa sono partiti i lavori di rinfoltimento delle scogliere soffolte del tratto che va da Piazza della Libertà a Porto. Un finanziamento complessivo di 430.000 euro il primo stralcio, di cui 200 la Regione e 230 del Comune e di 350.000 euro il secondo stralcio, 175 del Comune e 175 della Regione. Quindi un lavoro fatto in sinergia con l'amministrazione regionale. Entro Natale finiremo il primo stralcio, subito dopo le feste la nave tornerà e terminerà i lavori del secondo stralcio. Contemporaneamente nel bilancio 2021 abbiamo già previsto circa 127.000 euro di interventi per i ripascimenti, quindi per portare la sabbia. In più stiamo lavorando per capire se riusciamo nel giro di qualche mese a trovare anche la soluzione per il tratto sottomonte, per capirci dalla zona di Bagni Bibi, Margherita, Due Palme a scorrere dove le maree stanno causando problemi, non sono gli stabilimenti balneari ma potrebbero causarli anche alla ciclabile. Quindi l'intenzione nostra è attivarci attraverso i nostri uffici e soprattutto il coinvolgimento della regione perché vorrei ricordare che la tutela della costa non è una competenza delle amministrazioni comunali, qualsiasi che esse siano, ma è una competenza prettamente regionale. Fino adesso c'è sempre stata grande collaborazione e siamo sicuri che continuerà anche per questi cinque anni.